Arriva in Grande Inverno. Ci sarà una nuova fumetteria all'Aquila chiamata Grande Inverno come citazione alla serie dei libri del Trono di Spade. La fumetteria è di due giovani aquilani, Damir Rolle e Stefano Poglio, che in zona Santa Barbara hanno voluto aprire un luogo di aggregazione ludico per i giovani. Soprattutto all'Aquila, che manca di questi spazi, penso che sia un luogo per incontrarsi con i propri amici, scambiare opinioni sulle proprie passioni, stare insieme in tutta tranquillità. Sarà questo un punto di ritrovo per tutti i appassionati di fumetti, giochi di ruolo e da tavolo. Il mondo fantasy, collezionismo, giochi di ruolo, da tavola, di strategia ed anche online, grazie alla nostra sala gaming. L'idea è nata naturalmente dalla passione comune che ho con Damir, il mio socio, che abbiamo da diversi anni e ci hanno oltre che riempito le giornate e fatto conoscere tantissime persone. Ci hanno dato l'opportunità appunto di regalare magari questa emozione anche ad altri giovani che si vogliono approcciare e vogliono iniziare a divertirsi con questo mondo. Grazie. 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 Grazie.